ma questo che deve fare e voi chi siete? io sono lo spirito del passato io sono lo spirito del presente e io quello del futuro siamo potuti farti vedere una cosa vieni con noi guarda com'era la tua città 50 anni fa guarda com'è adesso guarda come diventerà se tu continuerai così e questa è la mia proposta per l'ambiente